buongiorno secondo giorno della challenge per la preparazione del liquido vediamo che è successo in queste 24 ore l'aspetto è già bello sembra quasi che è partita la lievitazione però non è così jade lim ci ha avvertito che occorreranno almeno 7 8 giorni l'odore è leggermente acido sulla superficie si presentano dei buchini e queste piccole parti di crusca della farina di tipo 1 procediamo come ieri aggiungiamo 15 g di acqua a temperatura ambiente 15 g di farina mia figlia ha detto che è puzzato i piedi è il processo alessi è il processo di fermentazione aggiungiamo prima l'acqua mescoliamo vedete se è fatta la schiuma in questo modo ossigeniamo il composto aggiungiamo la farina mescoliamo proprio come ieri ripuliamo le pareti del barattolo se no non ci accorgiamo di che succede ripuliamo ricopriamo come ieri di nuovo in forno con lucetta accesa per 24 ore ci aggiorniamo a domani con un nuovo video per gli aggiornamenti e i progressi di questa preparazione appuntamento oggi alle ore 15 sul canale ti toc per la live vi aspetto scaricatevi l'app se non la tenete di cominciare mi fate stare sola mi fate stare sopra mi fate stare sopra si chiede dopo 先